Per l'ente porto di Giulianova il 2022 è stato un anno ricco di interventi che di fatto hanno avviato il rilancio dello scalo giuliese, questo anche frutto dell'imponente lavoro fatto in sinergia con la regione Abruzzo. La regione ha puntato sullo sviluppo turistico e commerciale del porto di Giulianova con diversi interventi, ne cito solo alcuni quelli più importanti, innanzitutto la messa in sicurezza del molo sud e l'allungamento del molo nord per un importo complessivo di 3 milioni e 800 mila euro che sono già andati a gara e quindi nei prossimi mesi inizieranno i lavori. E poi la settimana scorsa in commissione regionale è stato approvato per poi essere trasmesso in consiglio, approvato il 31 gennaio quindi martedì prossimo, il piano regolatore del porto di Giulianova. Un piano che mancava da oltre 20 anni e che penso possa disciplinare e dare uno sviluppo a questo porto ancora di più di quello che prevediamo. Ma l'occasione è stata anche quella di presentare le tante novità in cantiere per il 2023 che porteranno ad un incremento dei servizi e miglioramento dell'infrastruttura in favore di tutti i fruitori della struttura portuale, dagli operatori della pesca e di portisti passando per le associazioni sportive e i circoli fino ad arrivare i turisti e i cittadini giuliesi e abruzzesi che frequentano il porto di Giulianova anche semplicemente per passeggiare. Il 2023 sarà anno di svolta per il porto, tutto il lavoro fatto in questo biegno, noi quest'anno a gennaio compiamo due anni dal nostro insediamento, il lavoro fatto in questi due anni credo che nel 2023 trovi piena applicazione. È stato anche presentato oggi il calendario con le foto più belle del porto? Sì, noi è la seconda edizione del nostro calendario, quest'anno il calendario è dedicato alla gente del porto, abbiamo pensato di rappresentare nei nostri 12 mesi le persone che lavorano all'interno del porto che quest'anno hanno dimostrato di saper lavorare insieme, infatti nel 2022 sono stati costituiti diversi consorzi e cooperative che hanno messo insieme gli operatori per lavorare insieme, per migliorare le condizioni della marineria.